La speranza di un futuro di pace nelle mani dei piccoli alunni di una quarta elementare di Andrea che su un panno bianco hanno scritto che ci sono cose che non si fanno e tra queste c'è la guerra che invece è scoppiata a pochi passi da noi nel cuore dell'Europa. E così la ricorrenza del 4 novembre, giornata dedicata alle forze armate e all'unità d'Italia assume un significato ancora più zeppo di valore. I valori che sottendono questa celebrazione sono estremamente importanti. in un momento storico come questo sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ovviamente lei fa riferimento agli eventi bellici che ci circondano. È chiaro che il pensiero va a coloro che ancora adesso, ancora nel 2022, sono costretti a combattere sono costretti anche a lasciare sul campo la propria esistenza e i propri affetti e quindi un grazie, un grazie profondo e sentito a tutte le forze armate. La celebrazione della giornata è iniziata qui, da Piazza Trieste e Trento che abbraccia un pezzo di storia d'Italia. Piazza Trieste e Trento perché i territori di Trieste e Trento furono quelli annessi alla fine del primo conflitto mondiale che sancì la vittoria dell'Italia con la resa dell'impero ostro-ungarico. Allora spiegare ai ragazzi che in città abbiamo un luogo intitolato in questo modo per un motivo preciso, un luogo che ospita sia gli uffici comunali, quindi i luoghi delle istituzioni che i presidi della cultura, quindi le scuole, scuola elementare, scuola media e dalle scuole siamo voluti partire anche per aprire proprio questo corteo, questo momento di festa infatti è affidato ai ragazzi, ragazzi che si sono preparati quindi hanno dovuto impadronirsi di pagine di storia che probabilmente hanno tanta troppa polvere. La giornata del 4 novembre ricorda anche chi non c'è più, chi ha donato la propria vita per il proprio paese e per gli ideali di pace e libertà. La guerra e le sue atrocità sono tornate attuali, segno che la storia in alcuni casi non è compresa fino in fondo. Che messaggio ha adesso, oggi, questo 4 novembre? Che noi uomini non smettiamo mai di continuare a sbagliare nonostante la storia ci abbia consegnato delle pagine da cui invece abbiamo tanto da imparare e allora se abbiamo sbagliato noi un po' più grandi dobbiamo insistere con le nuove generazioni affinché si rendano conto che i venti di guerra aspirano vicinissimi a noi la guerra è reale, vicinissima a noi, l'abbiamo toccata anche con tutta l'esperienza dell'accoglienza degli ucraini qualche mese fa ma ancora in tante nostre comunità c'è questo tipo di problema perché la guerra è lì e quando dico guerra dico ogni forma di sopraffazione, dico ogni forma di violenza rispetto alle quali i nostri ragazzi devono essere preservati e devono anche scoprire il valore di donne e uomini indivisa a tutela dei nostri territori e dei nostri diritti.